Ani, amore buongiorno! Che giorno è oggi? Eh? Cosa si fa oggi a scuola? Amo! Cosa facciamo oggi a scuola? Eh? Ci si veste di carnevale? Sì, amore! E allora dai, sveglia! Bene! Vanessa? Buongiorno, amore mio! Ciao! Oggi ci vestiamo di carnevale! È arrivato il giorno della festa, amo! Contenta? Andiamo a lavarci la faccina? Che abbiamo gli occhietti chiusi e poi andiamo a vestirci! Bene! Ehi! Sveglia! Tocca a te anche! Dai, amore! Sveglia! Se no facciamo tardi a scuola! Dai, Vanessa! Su! Dai! Dai! Svegliati, svegliati! Sono pronta la mia signorina! Mi puoi vedere questi pantaloni di pelle? Che ti sono piaciuti talmente tanto che li abbiamo messi quasi tutta la settimana, vero? Sì! Sono belli e sono comodi? Eh? Ma adesso cosa manca? Il vestito! Quale? Quello di Anna! Uh! Lo vado a prendere subito! Guarda tua sorella com'è addormentata stamattina, non le vuol sapere! Esatto! Adesso la svegliamo! Adesso la dobbiamo svegliarla perché dobbiamo andare a scuola perché tu hai la festa di carnevale stamattina! Sei felice? Sì? Dai, ti prendo il vestito, amore, ok? Eccolo, amore! Fa vedere! Che bello! Wow! E la treccia di Anna! Lasciamo i capelli sciolti e mettiamo la treccia in mezzo ai tuoi capelli o facciamo una coda e mettiamo la treccia? Facciamo una treccia qui e poi mettiamo anche l'altra treccia, solo una treccia e l'altra treccia! Va bene, adesso proviamo, ok? E poi la corona e poi la mollettina! Mamma mia, quanti accessori! Va bene! Buongiorno! Signorina! Dai, su! Andiamo a lavarci la faccia! Dai! Pettiniamo i capelli e mettiamo il nostro spray! Vai! Gioia, sei felice? Sì! Sì? Tanto tanto! Sì! Amore! Finalmente una festa a scuola, eh? Vero? Ieri era venuta qui la principessa e ricotta! Il re biscottino, il re e la regina sono venuti ieri, vero? Sì! Amore, li hai visti? Erano pelli? Sì! Abbiamo messo la treccia, fammi vedere! Wow! Amore, che bella! L'unica cosa è che non andava proprio messa così, ma ti sarebbe sicuramente caduta, eh? Cerca di stare attenta mentre giochi, ok? Sì! E se ve la tocca, non vedi che ti può toccarla! Esatto! E se voglio che ti calore, maestro, me la puoi togliere? Sì! Così evitiamo di perderla, va bene? Adesso aspettiamo la tua sorellina che si prepara, intanto si è svegliata! Buongiorno! Riesci a dire un ciao? Ciao! Dai, veloce, va bene, che dobbiamo andare! Wow! Mamma mia, che principessa che sei! Sei bellissima! Vieni più avanti che c'è il sole lì! Vieni! Pottiamo le scarpine? Eh? Dai! Sei bellissima, amore! Wow! Che bella che sei anche con le scarpine! Sei stupenda! Cos'è che c'è lo zainetto? Che so ti hanno regalato? Guarda! Chi è che te l'ha regalati, amore? La tua compagna? Ma che belle! Sono due vidi, eh? Sì! Lo sai che non le devi mettere in bocca, eh? No, ne so! Ah, ecco! E questa collana delle LOL? Eh, non è un braccialetto! Ah, un braccialetto! Ma che carina! Bisogna fare un regalino anche noi a Cudia, eh! Il tuo braccialetto non me l'ha regalato a Cudia, era il mio! È tuo? Sì, l'ho messo dentro lo zaino e l'ho stata l'altra volta! Ah, ecco! Va bene! Però bisogna fare un regalino a Cudia lo stesso, ok? Guarda! Eh! Questa collana! Che bella! E che cos'è? Un braccialetto anche bello? Sì! Ah! Dobbiamo mettere un'altra mollettina qui, amore, eh? Adesso la mettiamo! Senti, dobbiamo cambiare il bavagliolo, giusto? Sì, lo vado sempre a prendere! E ti devo misurare la temperatura perché dobbiamo segnarla! Sì! Buongiorno, signorina! Ben arrivata, amore! Ciao! Oggi Anastasia fa la festa in maschera a scuola, voi invece non la fate, vero? Peccato! Però questo fine settimana andiamo a fare qualcosina, va bene? Se ti vuoi vestire anche tu! Vediamo se c'è qualche cosa di bello da fare, eh? Sei pronta? Prendi la merenda? Che merenda prendiamo stamattina? Andiamo a vedere? Sì! Gai! Principessa Anastasia! Anzi, principessa Anna! Perché oggi tu sei Anna! Guarda il colore! Il bracciale! E viola? E viola! Sì, è vero, sta benissimo! Ecco qua la nostra principessa Anna! Pronta a stoggiare! Siamo la merenda! Che merenda scegliamo questa mattina? Quale? Ok! Con questo gioco! Va bene! Va bene! Va bene! Perfetto! Non giocare in classe! Eh! Giochiamo! Eh! Vaginavo io! Praticamente è un caso che è lungo, tu fai così e vola! E va bello! Ok! Dai! Che dobbiamo correre a scuola! Via! Via! Stai cominciando! E vabbè! Fa niente! Invece l'altro sì! Ma certo che ti aiuto! Wow! Wow! Esci! Ma è una vera e propria principessa! Ma sei davvero una principessa Anastasia! Complimenti! Grazie! Amo! Dai! Siete pronte? Sì! Tu sei pronta? Andiamo! Che bella che sei! Fatti vedere! Fatti vedere! No! Amo! Sei bellissimo! Facciamoci! Vestito da te stessa! Sei bellissima! Una scivolata prima di andare a scuola! E la principessa Anna? Anche lei? Andiamo! Prego principessa! Anche l'altra principessa! E si va a scuola! In macchina vero Ani? Sì! La mamma sta guidando e stiamo andando e stiamo andando alla mia scuola Così Anastasia poi va nella sua a giocare E lei la principessa! Vero Ani? Sì! Anche è una mia compagna di classe! Se ne siete l'altra! Si chiama Giulio! Sapete chi è? Guardate il mio video! Amore! Mamma saluta! Ciao! Buongiorno! Semmaforo rosso! Sì perché qua fuori strada da noi c'è un disastro praticamente ci fermiamo ogni secondo vero mamma? Eh sì! Stanno facendo dei lavori e quindi c'è un semaforo aggiuntivo e rallenta un po' la corsa! Sì! Vabbè ragazzi ci vediamo dopo! Ani saluta! Ciao! 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 Ma voi ragazzi siete a casa per le feste di carnevale? Io sì! A dopo! Ciao! Ciao! Allora amore siamo arrivati davanti alla tua scuola saluta che ci vediamo poi quando uscirai Buongiorno! Sei stanca? Dai che è solo il penultimo giorno e domani cosa si fa? Si va a nuoto! Si va a nuoto! E domani faremo vedere la nostra Friday routine quello che facciamo il venerdì Allora signorina aspettami in macchina due minuti che porto Vanessa e torno da te principessa ok? O vuoi venire? Vuoi venire a farti vedere? No! No? No! Va bene! Andiamo! Saluta! Tua sorella! Anni saluta tua sorella Siamo arrivati all'altra scuola Divertiti tanto tanto Sei contenta? Ci vediamo dopo A che ora vuoi che ti vengo a prendere? Dopo pranzo? Alle tre? Sei sicura? Guarda che l'abitino per il pranzo ve lo fan togliere Sì! Eh? Le tre! Ok! Allora ci vediamo alle tre! Va bene! Ciao! Six and a half hours later Bentornata amore! È finito oggi l'asilo? Com'è andata? Bene! Vi siete divertiti? Avete ballato? Tutti vestiti in maschera? Ci hanno dato per ballare Le stelle filanti Wow! Allora invece ti dico cosa ci sono messite Allora io d'Anna Un mio compagno giumano D'Anna Sì? Poi Dei miei amici Uno allo Uno di Uno Matteo Da supereroe Giuseppe da Capitano America Che bello! Invece E Cudia? Invece Cudia Non ti ricordi? No Fai niente Dai non importa Invece Sofia Da un vestito Tutto azzurro Sì Tassima da Tregan Amiglia da Faffalla Ok Hai sempre le labbra rosse Non ti devi Continuare a leccare le labbra Sono infiammate Amiglia da Faffalla Ok Poi Alice Una gonna Copaneno Anche c'è Che tocco pennello La maglietta Da unicorno Tutta colorata Benissimo Avete mangiato la pasta oggi? Con che cosa? Con la masciamella Con la masciamella Ti è piaciuta? Sì Adesso stai facendo merenda E tra pochi minuti Andiamo a prendere Questi biscotti Me li hanno dati le maestre Ce li hanno dati oggi le maestre Sì E avete fatto la merenda Con i biscotti Che abbiamo comprato Noi mamme E con i succhi di frutta Sì Però no quelli Ok Allora Finisci di fare merenda Amore Che andiamo a prendere Daniel e Vanessa E poi torniamo a casa E facciamo i saluti Va bene? Ciao Ciao amore Buona merenda Ciao Ciao amore Ciao Bentornata anche a te Da scuola Guarda tua sorella Ta da Mi fa troppo ridere Come dorme Niente Si è addormentata Mi ha raccontato Come è andata a scuola Stamattina Hanno fatto la festa di carnevale Poi invece Quando abbiamo fatto il franzo Abbiamo mangiato La pasta Con la mozzarella sciolta Ah ma anche lei Con la besciamella Mi ha detto Sì E poi le patatine Wow Frutte Buone E il viusel E il ketchup Ma le chiacchiere Non ve le hanno date? No A me hanno dato i waffle E vabbè la frutta Buona Buoni Niente chiacchiere Non c'erano? La frutta l'hai mangiata? Sì Un pezzetto Di che cosa? La vela Brava amore Adesso arriva Daniel Poi andiamo a casa A fare merenda E merenda anche tu Le l'hai già fatta Ok? Ciao amore Cosa c'è a casa amore? Finalmente Una buona merendina Cosa c'è di nuovo In queste merende? In queste merende Ci sono questi ombrellini Diciamo questi droni Della Minions Dove puoi trovare Degli stickers Da attaccare sopra? Sì Da pizzicare sopra Le Minions E sono tutti diversi Le Minions Possono essere blu E gialli Belli E come funziona? Praticamente tu Ti fai vedere? Fai così Così E vola Dove è andato? Dove è andato? Dove l'hai lanciato? Sul frigorifero? C'è? Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo Brava Oddio E lavastoviglie Sei bravissima Brava amore Mi piace Va bene Dai E così A scuola Ci vai volando Da domani Non ti ci porti Come Doraemon Con un cartone animato Che guardavo io Va bene tesorina Allora Anastasia Sta ancora Dormicchiando Quindi il video Finisce qua Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Lasciate un bel like A questo video Con l'ombrellino Guardate E voi Quali costume Di carnevalo Dossierete Io non lo so ancora Ma devo comprarlo Eh vabbè Poi lo compreremo Va bene Ciao 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 Ciao